il premier prova ad essere conciliante sulle riaperture tra il 20 aprile caldeggiato da salvini per l'inizio delle riaperture in sicurezza e la festa nazionale del 2 giugno avanzata dal ministro garavaglia mario draghi si divincola con il consueto sorrisetto non ho una data perché dipenderà dall'andamento dei contagi e dalle vaccinazioni delle categorie fragili il punto non cambia decide la scienza decidono i dati il problema però il premier reduce dal faccia faccia con il leader della lega se lo pone e come il migliore sostegno per l'economia sono le riaperture lo chiedono tutti sono consapevole della situazione il governo insomma ci sta lavorando vedremo le prossime settimane devono essere di aperture e non di chiusure ma in sicurezza si può riconsiderare anche prima del 30 aprile ma dipenderà dai parametri si concede addirittura una battuta non diamo per persa la stagione turistica magari aprirà prima del 2 giugno parole che certamente non dispiacciono all'ex vice premier giallo verde nessuna concessione invece sulla linea prudenziale tenuta da speranza che salvini ha messo non da oggi nel mirino no al rosso ideologico non vogliamo un paese tutto rosso speranza ha ribadito nel colloquio e non è un caso che il faccia a faccia subito precedente del premier sia stato con pier luigi bersani fondatore di articolo 1 che ha difeso il suo ministro invocando un aggiustamento politico dell'azione di governo e un'assunzione di responsabilità sulle scelte da parte del premier che arriva puntuale e pubblica a salvini ho detto che ho voluto io speranza nel governo e ne ho molta stima all'inizio